Come immagino sappiate mi sono candidato al Quirinale. Alcuni diranno che è un paradosso. Se sette anni fa la mia parola d'ordine, il mio slogan, diciamo così per semplificare, era basta fatti, soltanto immaginazione, questa volta la frase che accompagna questa mia scelta contro ogni ambizione è ancora la forza dell'irrilevanza. L'intelligenza è irrilevante in un mondo che si affida alla semplificazione e alcuni potranno anche trovare risibile nel suo paradosso che uno scrittore immagini una propria candidatura al Quirinale. Io non penso di essere eletto, ma ogni voto, e in questo senso mi appello ai parlamentari, a coloro che voteranno, ma ogni voto che porterà il mio nome, che giungerà sul mio nome, sarà una sconfitta della banalità. È un'affermazione anche della fantasia, dell'immaginazione. Fulvio Abate al Quirinale, contro ogni ambizione. La forza dell'irrilevanza. Aspetto i vostri voti, cremole pure così. A presto. È solo l'inizio. La fantasia, l'immaginazione non possono morire. La banalità persisterà. Ma in qualche misura la fantasia sarà comunque una rete di contenimento della mediocrità. Fulvio Abate al Quirinale.